Dio Onnipotente dice, E alla fine, la tua indole vitale non cambierà di una virgola. Anzi, diventerai più testardo perché starai servendo Dio e così la tua indole corrotta sarà ancora più radicata. Così, svilupperai interiormente regole sul servizio di Dio, regole che sono fondate principalmente sul tuo carattere e sull'esperienza derivata dal servizio svolto secondo la tua indole. Queste sono le esperienze dell'uomo. È la filosofia del vivere nel mondo. Persone così si possono classificare come farisei e funzionari religiosi. Se non aprono gli occhi e non si pentono, allora finiranno col trasformarsi in falsi Cristi e compariranno negli ultimi giorni per ingannare l'uomo. Amén. Si è ringraziato Dio. Quando leggo questo passo, servire Dio non è un compito semplice. Chi non muta la propria indole corrotta non può servire Dio. Se la tua indole non è stata giudicata e castigata dalla parola di Dio, vuol dire che rappresenta ancora Satana. Io mi sento profondamente commosso. In passato ho sperimentato il fallimento. Ho avuto un'indole arrogante e sono stato molto vanaglorioso. Ho predicato dottrine superficiali per essere stimato e adorato, senza rendermi conto che avevo iniziato a resistere a Dio. Poi, grazie al giudizio e alle parole di Dio, ho trovato la fonte della mia resistenza e della mia natura satanica. E mi sono pentito. Amén. Amén. Nel 2013 mi hanno scelto come capo della chiesa ed ero abbastanza motivato. Se i miei fratelli erano in difficoltà, condividevo sulle parole di Dio per aiutarli. Risolti i loro problemi, tutti riuscirono a svolgere i propri compiti. Dopo qualche mese, il capo mi ha detto «In una chiesa sono appena arrivati molti fratelli e i tuoi collaboratori vorrebbero che te ne occupassi tu. Sicuro di me, ho accettato. Pensavo solo di dover nutrire quei fratelli affinché capissero subito la verità, gettando le basi sulla vera via. Arrivato alla chiesa, mi sono fatto un'idea della situazione generale e ho preso nota dei problemi e delle difficoltà di tutti loro e li ho risolti, condividendo sulle parole di Dio. Visto che ero nuovo lì, ho pensato che molti di quei fratelli non mi conoscessero e quindi dovevo impegnarmi e condividere di più con loro. Se avessi ottenuto buoni risultati, subito avrebbero capito che possedevo la realtà della verità e che ero capace nel mio lavoro. E anche i capi mi avrebbero stimato. La chiesa ha poi stilato una lista delle verità in cui si doveva entrare in quella fase, indicandoci i passi delle parole di Dio da condividere. Ero abbastanza euforico, perché era l'occasione per dimostrare il mio valore. Così ho trovato alcuni discorsi di Dio relativi a tutti gli aspetti della verità e li ho riordinati con attenzione. Poi ho pensato, proprio domani c'è una riunione. Tutti i collaboratori vedranno che ho passato la notte a cercare queste parole di Dio e diranno che sono scrupoloso e responsabile nel mio compito. Insomma, era l'alba quando ho finito di prepararmi. Come pensavo, viste le parole di Dio che avevo cercato, mi hanno guardato tutti con ammirazione. Qualcuno ha detto, guardate, fratello Chen, quanto è scrupoloso. Tutta la notte ha cercato passi pertinenti delle parole di Dio. E qualcun altro, già, fratello Chen legge spesso le parole di Dio. Il fratello che ospitava la riunione disse con apprensione, fratello Chen, che ora hai fatto per trovare tutti questi passi della parola di Dio? Quelle parole mi hanno mandato letteralmente in estasi. Non avevo per niente fatto l'alba. I miei fratelli avevano notato il mio impegno. Mascherando l'emozione, ho detto, era quasi l'alba quando ho finito di cercarli. È normale stare in piedi tutta la notte se ho un compito. Non c'è da vantarsi. Oggi dovevo assicurarmi di avere qualcosa da condividere. Il fratello ospitante ha apprezzato molto il fatto che sia stato sveglio la notte, sopportando le avversità. Il mio cuore si è gonfiato di gioia. Dovevo lavorare sodo perché i miei fratelli dicessero che ero un capo competente. Mentre progrediva l'opera di diffusione del Vangelo, abbiamo fondato altre chiese. Ogni giorno lavoravo dall'alba al tramonto, girando ogni chiesa per nutrire i miei fratelli. Leggevo le parole di Dio a chiunque fosse in difficoltà per risolvere i problemi. E la stima degli altri verso di me cresceva. Diffondendo il Vangelo, alcuni fratelli hanno incontrato un problema che non riuscivano a risolvere. Erano negativi e deboli e mi hanno chiesto una condivisione. Ho parlato loro di quando in passato anch'io diffondevo il Vangelo. Ho detto, molti avevano dei concetti, non lo accettavano, e mi hanno cacciato dalle loro case. All'epoca, anch'io ero in difficoltà, così pregavo sempre Dio. Di notte cercavo passi pertinenti delle sue parole da condividere con quelle persone che avevano problemi. Volevo che sentissero la voce di Dio e ricevere la Sua salvezza negli ultimi giorni. Nonostante le umiliazioni, mi rifiutavo di arrendermi. Alla fine, li ho portati tutti all'ovile. Finito di parlare, un fratello mi ha detto con ammirazione, Chen, tu sai sopportare le avversità e il fardello. Alcuni hanno detto, dovremmo diffondere il Vangelo come fai tu. La stima che tutti avevano nei miei confronti mi mandava al settimo cielo. Da quel giorno, altri in difficoltà venivano a chiedermi aiuto e pochissimi si rivolgevano al fratello che mi affiancava. Svolgendo i loro compiti, i fratelli facevano attivamente tutto ciò che chiedevo. Vedendo quanto mi stimavano, mi apprezzavo sempre di più. mi sentivo un vero pilastro della Chiesa. Durante una riunione, continuavo a parlare di quanto avessi sofferto, del prezzo che avevo pagato nel mio compito e dei risultati ottenuti. All'improvviso, una sorella mi ha detto, fratello Chen, tu parli sempre di quanto ti sei speso e hai sofferto per svolgere il tuo compito, ma non delle tue debolezze avute durante le avversità, della tua indole corrotta, della conoscenza acquisita su te stesso, né di come hai cercato la verità negli ostacoli. Sembrerebbe che tu non abbia alcuna corruzione. Finito il suo discorso, tutti gli altri mi hanno guardato. Io ero sbalordito. Mi sentivo messo alle strette ed ero rosso in volto. Ho pensato, mi ha fatto sembrare uno sciocco davanti a tutti i fratelli e sorelle. Cosa penseranno di me? Nel tentativo di salvare un po' di orgoglio, ho detto subito, «Vedi, sorella, la tua condivisione è corretta, ma i nostri fratelli incontrano difficoltà nei compiti diventando negativi. Oltre a parlare della corruzione, condividiamo di più sulle pratiche positive. Solo così i nostri fratelli possono progredire e trovare la fede». In seguito, altri fratelli e sorelle mi hanno detto che, parlando delle mie esperienze e conoscenze, avevo pressoché taciuto riguardo alla mia corruzione e che, con quei discorsi sulla sofferenza e su come avevo abbandonato la carne nel mio compito, ero apparso abile nel praticare la verità. Di fronte a quel monito dei miei fratelli, mi sentivo un po' a disagio. Ciò che avevo condiviso non era adatto. A volte condividevo sulla mia arroganza e sul mio egoismo. Inoltre, senza intralciare il lavoro della Chiesa, avevo sempre ottenuto ottimi risultati nel mio compito. Non c'era nulla di sbagliato nel mio modo di condividere. Così non ho riflettuto su me stesso. Alla fine, come hai fatto a riconoscere queste cose? In seguito, per motivi legati al mio compito, hanno deciso di trasferirmi in un'altra chiesa. Durante una riunione, fratello Zhang ha detto con tono serio, «Fratello Chen, da quando hai lasciato l'altra chiesa, alcuni fratelli hanno perso interesse nel proprio compito». Di fronte a una difficoltà, non cercano la verità, vogliono che sia tu a risolvere i problemi. E qualcuno non frequenta più le riunioni. Ciò dimostra che non hai esaltato Dio e non Gli hai reso testimonianza nel tuo compito. Volevi solo farti stimare e adorare dagli altri. È un atto di malvagità e devi riflettere su te stesso. Quelle sue parole mi hanno sbalordito. Com'era successo? Tutti i miei fratelli mi adoravano. Era un problema grave. Questo, credetemi, mi agitava molto. Da quel momento non ho più sentito ciò che si condivideva in riunione. Avevo una gran confusione in testa. Non sapevo come potevo venirne fuori. Tornato a casa, ho rimuginato ancora sulle parole di fratello Zhang. Pensavo di aver assolto il mio compito di saper condividere sulla verità per risolvere i problemi. Non avrei mai pensato di arrivare a tali conseguenze. In realtà, la questione mi aveva sconvolto. Nella mia impotenza, ho cominciato a pregare Dio. Ho detto, Dio, ti prego, illuminami per trovare l'origine del problema e comprendere davvero me stesso. In seguito, ho visto alcune parole di Dio. Coloro che peggiorano progressivamente si esaltano e testimoniano se stessi. Se ne vanno in giro vantandosi e autocelebrandosi e non hanno affatto preso a cuore Dio. Avete qualche esperienza di ciò che sto dicendo? Molti testimoniano se stessi affermando Ho sofferto in questo e in quel modo, svolgendo ogni lavoro. Dio mi ha trattato in questa e in quella maniera. Mi ha chiesto di fare questo e quello. Ha un'opinione particolarmente alta di me. Ora io sono in un modo e in un altro. Parlano deliberatamente in un certo tono e assumono certe posture. In sostanza, alcuni pensano che queste persone siano Dio. Quando saranno arrivati a quel punto, lo Spirito Santo li avrà abbandonati da tempo. Anche se intanto vengono ignorati e non espulsi, il loro destino è stabilito e possono soltanto aspettare la loro punizione. Alcuni sfruttano la propria posizione per deporre continuamente a loro favore, per esaltarsi e per competere con Dio per gli uomini e per lo status. Usano vari metodi e accorgimenti per indurre gli altri ad adorarli, provando costantemente a conquistarli e a controllarli. Alcuni addirittura li fuorviano, inducendoli a pensare che siano Dio, in modo da poter essere trattati come Lui. non direbbero mai agli altri che sono stati traviati, che sono corrotti e arroganti a loro volta, che non andrebbero adorati, che la loro condotta impeccabile dipende tutta dall'esaltazione di Dio. Questo è il comportamento che dovrebbero tenere in ogni caso. Perché non dicono queste cose? Perché hanno molta paura di perdere il loro posto nel cuore degli altri. È per tale motivo che queste persone non esaltano Dio e non Gli rendono testimonianza. Lette le parole di Dio, mi sono sentito molto angosciato. Dopo aver riflettuto su di me, ho capito che mentre all'esterno sembrava che avessi sofferto e condiviso sulle parole di Dio per risolvere problemi altrui, in realtà l'avevo fatto solo per mettermi in mostra, farmi notare, per farmi stimare e adorare. Da quando mi avevano raccomandato come capo in una chiesa con nuovi membri, mi sono reso conto di aver pensato solo ad accumulare successi, in modo che i miei fratelli e il mio capo mi stimassero. Per questo avevo lavorato di notte cercando passi giusti delle parole di Dio da condividere nelle riunioni. Quando i fratelli faticavano a diffondere il Vangelo, non condividevo con loro sulla volontà di Dio per condurli ai principi della verità. Anzi, mi ero solo vantato delle mie sofferenze e del prezzo pagato per diffondere il Vangelo. Il mio lavoro era migliorato, i miei fratelli e le mie sorelle mi avevano lodato, io ne avevo goduto. E mi ero preso il merito dei risultati raggiunti dall'opera dello Spirito Santo, ostentandoli spudoratamente come fossero miei. Durante le riunioni, spesso mi mettevo sotto i riflettori, condividendo solo i fatti positivi ed evitando i riferimenti all'indole corrotta che avevo rivelato. Se spuntava l'argomento, semplicemente glissavo. Riguardo agli ignobili motivi per cui svolgevo il mio compito, evitavo di portarli alla luce. Di volta in volta, Dio aveva usato i miei fratelli e sorelle per far emergere i miei problemi, ma per proteggere il mio prestigio e la mia immagine, in teoria avevo accettato le loro critiche, ma in realtà non avevo riflettuto per niente su me stesso. Durante la condivisione, parlavo con fare pretenzioso per ingannare i miei fratelli. Credevo di essere stato responsabile, pronto ad affrontare ogni avversità e a pagarne il prezzo. Qualunque fosse la difficoltà della Chiesa o la condizione dei miei fratelli, non mi tiravo mai indietro, trovavo sempre soluzioni. Messo a nudo dai fatti, ho capito che nel mio compito non avevo praticato la verità né avevo considerato la volontà di Dio. Avevo approfittato del mio compito per mettermi in mostra e farmi stimare dagli altri, soddisfacendo il mio desiderio di fama e prestigio. Sì. Nel fare questo, non avevo condotto i miei fratelli dinanzi a Dio, ma li avevo portati ad adorarmi. Cioè, competevo con Dio per conquistare le persone e il prestigio. È vero. È così che ho capito di essere già sulla via della resistenza a Dio e di aver commesso una trasgressione. Ero molto spaventato e mi sentivo davvero in colpa. Allora mi sono chiesto come ho fatto a mettermi sulla via della resistenza a Dio senza saperlo. La spiegazione è nelle parole di Dio. Quando Satana ha corrotto gli esseri umani, la loro natura è diventata satanica. Le persone non agiscono più da esseri umani secondo la posizione dell'uomo. Hanno invece superato la condizione di umanità. Non desiderano essere davvero umane. Bramano qualcosa di più elevato. E che cos'è questo qualcosa di più elevato? Desiderano superare Dio, superare i cieli, superare tutto il resto. Che cosa c'è alla radice di questo modo di essere? In fin dei conti, la natura dell'uomo è troppo arrogante. Quando la natura e l'essenza delle persone si fanno arroganti, esse diventano capaci di fare cose che disobbediscono e resistono a Dio, che non tengono conto delle sue parole, che generano concezioni riguardo a Lui, che si ribellano contro di Lui e che esaltano e testimoniano le persone stesse. Tu dici di non essere arrogante, ma supponiamo che ti vengano assegnate varie chiese e che ti sia concesso di guidarle. Supponiamo che io non ti abbia trattato e che nessuno della famiglia di Dio ti abbia potato. Dopo aver guidato le chiese per un po', condurresti i fedeli ai tuoi piedi e a far sì che obbediscano. E perché faresti così? È stabilito dalla tua natura. Non è altro che una rivelazione naturale. Non devi farti in quattro per impararlo, né devi fartelo insegnare dagli altri. Non hai bisogno di fare tutto questo intenzionalmente. Queste situazioni ti riescono naturali. Obblighi gli altri a sottomettersi a te, ad adorarti, a esaltarti e ad ascoltarti in tutte le cose e non consenti loro di fare nulla che non sia da te approvato. Simili situazioni si verificano con naturalezza. E come emergono queste situazioni? Sono stabilite dalla natura arrogante dell'uomo. Leggere le parole di Dio mi ha fatto capire perché avevo voluto soddisfare Dio nel mio compito, ma avevo imboccato senza volere la via della resistenza a Lui. scaturiva dall'arrogante e natura satanica che avevo dentro. Controllato dalla mia natura arrogante, io ero caduto nell'autocompiacimento e mi mettevo in mostra sia nel parlare che nell'agire per essere stimato e adorato. Sì. Quando i miei fratelli avevano incontrato problemi nei propri compiti, non avevo condiviso i principi della verità perché avessero un percorso di pratica, ma avevo solo detto parole superficiali per mettermi in mostra. Ho perfino usato i sacrifici nel mio lavoro come capitale con cui potermi vantare. Così i miei fratelli mi stimavano perché credevano che io avessi capito la verità e potessi aiutarli. Quando erano in difficoltà, venivano sempre da me, invece di affidarsi a Dio per risolvere i loro problemi. Nei loro cuori non c'era posto per Dio. E così, dopo il mio trasferimento, alcuni non hanno più partecipato alle riunioni. Stavo forse svolgendo il mio compito? Commettevo il male resistendo a Dio. Che io fossi capace di tali malvagità era tutta colpa della mia presunzione e della mia arroganza. Volevo solo dominare sugli altri, proteggendo il mio prestigio e la mia immagine, farmi adorare ed essere al centro dell'attenzione, prendermi le benedizioni derivanti dalla mia posizione. Ho capito che nel profondo non avevo più riverenza per Dio. Quando si vive secondo una natura arrogante, resistere a Dio è una cosa involontaria. È davvero pericoloso. Hai ragione. Ho pensato ai pastori e agli anziani nel mondo religioso. Non esaltano Dio né gli rendono testimonianza. Non fanno mettere in pratica le parole del Signore, anzi, espongono conoscenze bibliche e teorie teologiche per ingannare i credenti, vantandosi esclusivamente di quanto hanno sofferto, del bene che hanno procurato rifondendo il Vangelo, oppure di quante chiese hanno fondato. In questo modo, i credenti li adorano, li ammirano e fanno tutto ciò che dicono. Alcuni hanno letto le parole di Dio e sentito la Sua voce, ma vanno a chiedere conferma a pastori e anziani. Senza il consenso dei pastori, non osano accettare l'opera di Dio Onnipotente. È vero. I pastori e gli anziani del mondo religioso tengono la gente saldamente sotto controllo, seguono la via di resistenza a Dio indicata dall'Anticristo per creare un regno indipendente. Io cercavo spesso di vantarmi nel mio compito per farmi stimare e ammirare. In cosa ero diverso da quei pastori e anziani? Pensavo ai fratelli della Chiesa con nuovi membri, avevano accettato l'opera di Dio degli ultimi giorni e ancora non avevano capito molte verità. Dio mi aveva innalzato per svolgere il compito di capo della Chiesa. Dovevo condividere sulle Sue parole, rendere testimonianza alla Sua opera, perché comprendessero verità e conoscenza di Dio, gettando le fondamenta sulla vera via. Ma cosa ne è stato dei miei tentativi di svolgere quel compito? Mi sono fatto adorare dagli altri, negando loro una qualsiasi conoscenza di Dio. Così facendo, avevo danneggiato i miei fratelli, intralciando e turbando il lavoro della Chiesa. Stavo percorrendo la via di resistenza a Dio indicata dall'Anticristo. Giusto. Più ci pensavo, più ero preoccupato e turbato. Capivo che ero stato arrogante, senza la minima riverenza verso Dio, e con le mie azioni offendevo la Sua indole da molto. Se non avesse usato i miei fratelli per potarmi e trattarmi in quel modo, non avrei riflettuto sulle mie azioni. Percorrendo quella via, chissà quanto male avrei fatto incorrendo nella punizione di Dio. Questo è vero. Con molto timore, mi sono prostrato davanti a Dio e ho pregato. Ho detto, Dio, sono stato così arrogante, mi vanto sempre nel mio compito, e ho lasciato che tutti mi adorassero e non avessero un posto per te nei loro cuori. Ho commesso il male e ti ho resistito. Merito la tua punizione. Dio, voglio pentirmi davanti a te per seguire la verità e ricominciare da capo. Amo, amo. Amo. In seguito, ho letto queste parole di Dio. L'uomo, essendo una delle creature, deve restare al suo posto e comportarsi coscienziosamente e salvaguardare debitamente ciò che gli viene affidato dal Creatore. E l'uomo non può uscire dai ranghi, né fare cose al di là della sua portata, o che risultino sgradite per Dio. L'uomo non deve cercare di essere grande, o eccezionale, o superiore agli altri, né cercare di diventare Dio. Non bisogna mai avere questo tipo di desideri. A prescindere da ciò che gli esseri umani ricercano o desiderano, soltanto coloro che tornano dinanzi al Creatore e diligentemente compiono e portano a termine ciò che sono tenuti a fare e ciò che è stato loro affidato, vivranno con la coscienza pulita e in maniera giusta e appropriata, senza alcuna sofferenza. Questo è il significato e il valore del vivere. Amén. Si è ringraziato Dio. Dopo aver letto le parole di Dio, ho capito che Egli è il Signore della creazione, ed è giusto, corretto e naturale che gli uomini Lo adorino e si sottomettano a Lui. Amén. Inoltre, sapevo di essere solo un piccolo essere creato, un umano corrotto. Ero intriso di indole satanica. Ero arrogante, ingannevole, egoista e spregevole. Eppure cercavo sempre di vantarmi e di accaparrarmi un posto nel cuore della gente. Ero davvero senza vergogna e arrogante, al di là di ogni ragionevolezza. Più ci pensavo, più mi vergognavo. Mi odiavo perché ero cieco e non conoscevo Dio, non sapevo chi fossi veramente. Oggi svolgo il mio compito solo per merito della grazia di Dio che mi ha elevato. Dovrei stare al mio posto di essere creato e vivere da persona onesta e retta, che persegue la verità, esalta Dio e Gli rende testimonianza, svolgendo bene i propri compiti. Solo così avrei la coscienza e il senno propri di un essere creato. Amén. In seguito, ho cercato un percorso di pratica e di ingresso attraverso le parole di Dio. Ne ho letti alcune che dicevano Rendendo testimonianza a Dio, dovreste parlare di più di come Egli giudica e castiga le persone, di quali prove usa per affinare gli esseri umani e cambiarne l'indole, e anche di quanta corruzione è stata rivelata nella vostra esperienza, di quanto avete sopportato e di come, alla fine, siete stati conquistati da Dio, di quanta vera conoscenza dell'opera di Dio avete e di come dovete rendere testimonianza per Lui e ripagarlo del Suo amore. Dovete usare un tipo di linguaggio più pratico, nello stesso tempo esprimendovi in maniera semplice. Non parlate di teorie vuote. Parlate in modo più concreto. Parlate con il cuore. È così che dovreste sperimentare. Non armatevi di teorie vuote, apparentemente profonde, solo per mettervi in mostra. Questo comportamento vi fa apparire molto arroganti e irragionevoli. Dovreste parlare di più di cose effettive, tratte dalle vostre esperienze reali e che provengono dal cuore. Ciò reca grande beneficio agli altri ed è proprio questo che debbono capire. Amén. Si è ringraziato Dio. Lette queste parole, ho capito come praticare l'esaltazione di Dio e come rendergli testimonianza. Si è ringraziato Dio. Nel rendere testimonianza a Dio, dovrei parlare di più di come ho sperimentato la Sua opera, dell'indole corrotta che si era rivelata in me, di come mi ero ribellato e Gli avevo resistito, di come avevo conosciuto me stesso e grazie alle Sue parole sono pentito e cambiato. Sì. Condividendo sulla verità, dovrei aiutare gli altri a capire la Sua volontà e le Sue richieste. L'opera che Egli svolge per salvare le persone, nonché la Sua indole. Dovrei riverire e sottomettermi a Dio, svolgendo i compiti degli esseri creati. Solo così potrei esaltare Dio e rendergli testimonianza. Si è ringraziato Dio. Quando tenevo condivisioni con i miei fratelli, parlavo solo di quanto avevo sofferto, del prezzo pagato e di come ero stato testimone delle azioni di Dio, delle Sue benedizioni. Se si trattava dell'indole corrotta che si era rivelata in me o dei miei ignobili motivi, li occultavo e quasi mai ne facevo menzione. Temevo che, vedendo la mia corruzione, la loro stima sarebbe crollata. Avevo davvero una natura ingannevole. Ho riconosciuto queste cose, ho parlato con fratello Zhang, delle mie azioni malvagie, di come mi ero vantato per ingannare gli altri. Gli ho chiesto di visitare la chiesa in cui avevo servito e di sezionare il mio comportamento con tutti perché fossero più perspicaci. Sì. Durante la riunione, mi sono anche aperto con i miei fratelli e sorelle sul mio comportamento malvagio. Ho testimoniato l'indole giusta di Dio e ho detto di non imitarmi se non volevano imboccare la via di resistenza a Dio. Sì, è ringraziato Dio. In seguito nei miei compiti, ho tenuto un profilo più basso e ho sviluppato un po' di riverenza per Dio. Sì, è ringraziato Dio. Una volta, durante una riunione, c'era un fratello in difficoltà e io ho tenuto una condivisione sulle parole di Dio per aiutarlo a risolverla. Dopo avermi ascoltato, il fratello ha detto felice, «Fratello Chen, la tua condivisione è ottima. È da molto tempo che mi preoccupa questo problema e non l'ho mai risolto. Tu capisci davvero la verità. Dovresti condividere più spesso qui con noi». Un altro fratello ha detto la stessa cosa. In quel momento, mi sentivo piuttosto euforico e ho subito capito che la mia brutta tendenza all'ostentazione rialzava la testa. Così ho abbandonato me stesso e mi sono affrettato a pregare Dio. In seguito, ho reso testimonianza a Dio e ho condotto i miei fratelli dinanzi a Lui. Ho detto, «Ognuno può imparare da ciò che abbiamo condiviso oggi. È lo Spirito Santo che ci guida e ci illumina. Dovremmo tutti leggere le parole di Dio e cercare di più la verità nelle Sue parole. E lo Spirito Santo ci illuminerà. La nostra comprensione crescerà». Si è ringraziato Dio. Dopo averlo detto, ho provato un grande senso di pace interiore. subire questa trasformazione, praticare l'esaltazione di Dio e rendergli testimonianza nel mio compito. È tutto merito del giudizio e del castigo prodotti dalle parole di Dio. Amen. Si è ringraziato Dio. È stato un incontro davvero. Si è ringraziato Dio. Non chiederno kito. Ci sono arrò Mackati,